Campo Basso-San Marino, il match in programma domenica al Selva Piana. Occasione importante per il Rosso Blu. Un successo permetterebbe agli abboni e compagni di dormire sonni tranquilli in vista delle ultime giornate di campionato. L'obiettivo salvezza diretta dista più o meno 6-7 punti. Le giornate al termine della stagione sono 8 se consideriamo anche il turno di sosta per la questione Chieti. Insomma domenica il Campo Basso può davvero ipotecare il discorso salvezza con un successo. Ricordiamo anche che domenica prossima ci sarà la sosta nel torneo di Serie D per il consueto torneo carnevale di Viareggio dove sarà impegnata come ogni anno la rappresentativa di Lettanti. Detto questo la gara è sicuramente complicata. Il San Marino sotto la gestione di Meo, iniziata proprio un girone fa contro il Campo Basso, ha ottenuto ben 25 punti in 16 giornate. Quasi due punti a partita per il tecnico ex termo leolimpia nionese che ha dato la svolta alla squadra della Repubblica Indipendente. 33 punti attuali, un bottino che permette a Di Meo di poter magari ambire a qualcosa in più. Magari un piazzamento playoff a patto di continuare la Serie Positiva. Tornando al Campo Basso, Massimo Silva potrebbe cambiare qualcosa nell'undici iniziale. Qualche giocatore potrebbe rifiatare e magari subentrare a gara in corso. Come detto, le motivazioni dei Lupi sono forti. I Rosso Blu vogliono riprendere la Serie Positiva interrotta a Teramo e arrivare alla sosta con maggiore tranquillità. Nessuna news sul fronte societario. Al momento ancora nessun ingresso per contribuire alla causa Rosso Blu. Ricordiamo che entro metà mese il Campo Basso dovrà chiudere la vertenza di Lanzi Lotta. Circa 7.000 euro da versare al giocatore della passata stagione. In caso avverso, rischio, penalizzazione in classifica. Obiettivo tre punti anche per l'Olimpia nionese. Al Civitelle arriva l'Alfonsine. Scontro sulla carta da vincere per gli uomini di Del Grosso. La salvezza è ormai raggiunta. Si può lottare adesso per un piazzamento play-off. Prossime tre gare decisive per svoltare completamente. Alfonsine domenica, poi trasferta a Monticelli e di nuovo in casa contro il Castelfidardo. Obiettivo massimo per il Granata. Nove punti per sognare un posto al sole degli spareggi. Promozione. Al contrario, comunque, applausi per la squadra che ha ottenuto la salvezza con due mesi di anticipo.